Ciao a tutti ragazzi, ragazzi vinciamo 3 a 1 contro il Feyenoord, vittoria davvero importantissima e quindi ci portiamo a 3 punti nel girone. Partiamo subito forte ragazzi, partiamo subito all'attacco, riusciamo subito a trovare il gol del vantaggio con Insigne che con un grandissimo tiro la mette nell'angolino e ci porta in vantaggio per 1 a 0 e dedica anche a Milik. Lì poi c'è stato un episodio buffo che Zielinski consegna la maglia che doveva essere di Milik ad Insigne ma gli consegna la sua maglia mentre poi in un secondo momento gli dà la maglia di Milik e quindi Insigne gli può dedicare il suo gol. Poi continuiamo ad attaccare, andiamo più volte vicino al gol, prima con Amsic poi anche con Mertens ma non riusciamo ad andare sul 2 a 0, poi nel primo tempo non succede più niente di che e finisce così 1 a 0. Poi nel secondo tempo riusciamo a segnare il 2 a 0 con Mertens. Sbaglia il difensore del Feyenoord grazie alla pressione di Kulam e Mertens solo lui nella porta, freddissimo, la mette dentro ed è 2 a 0. Poi arriva il calcio di rigore per il Feyenoord, l'arbitro che non ha fischiato praticamente nulla per tutta la partita, ci potevano essere molti falli a nostro favore che non ha fischiato mentre va a fischiare il rigore per un leggero contatto del difensore con Kulam ma lì Reina è davvero molto bravo e reattivo, ha anticipato davvero nettamente il calciatore del Feyenoord che ha tirato il rigore. Mentre poi subito dopo, dopo 3 minuti troviamo il gol con Callejon, davvero tiro di una precisione chirurgica ed è 3 a 0, davvero grandissimo Callejon. Ragazzi comunque siamo stati padroni di questa partita per quasi tutti i 90 minuti, anzi per tutti i 90 minuti. Il Feyenoord ha fatto qualche azione ma Reina ha fatto soltanto qualche semplice parata oltre al rigore e abbiamo giocato davvero molto bene. Poi peccato che nel finale abbiamo preso questo gol perché mancavano praticamente 10 secondi alla fine della partita ma lì su una rimessa laterale ci facciamo sorprendere. Lì Maximovic secondo me ha sbagliato perché non è riuscito ad anticipare il calciatore del Feyenoord che poi ha preso il pallone e ha segnato il gol del 3 a 1 e l'arbitro fischia la fine della gara subito dopo il gol del Feyenoord. È peccato perché un 3 a 0 sarebbe stato migliore. Sappiamo che a volte in questi gironi questi gol presi potrebbero anche pesare però ovviamente speriamo di no. Il Manchester City intanto ha battuto per 2 a 0 lo Shakhtar Donetsk e alla fine è stato meglio così perché in questo momento siamo al secondo posto a 3 punti alla pari con lo Shakhtar mentre poi il Manchester City ha 6 punti a punteggio pieno mentre poi c'è il Feyenoord a 0. Noi ricordiamo che le prossime due partite saranno contro il Manchester City prima in Inghilterra e poi al San Paolo e speriamo bene dobbiamo fare di tutto per fare più punti possibili in queste due partite. Dall'inizio ha giocato tutta la formazione dei titolarissimi tranne Maximovic che gioca la sua seconda partita consecutiva dopo quella con la Spal al posto di Albiol. Albiol speriamo che non sia nulla di grave si dice che ha avuto qualche qualche problemino anche che ha fatto il provino stamattina e speriamo che non sia nulla di grave perché sappiamo che Albiol per noi in fase difensiva è davvero molto importante, ci garantisce davvero molta più sicurezza, si vede la differenza quando Albiol in campo ce l'hai o non ce l'hai. Comunque diciamo che Maximovic oltre all'episodio del gol del 3 a 1 di oggi e oltre diciamo in qualche contrasto dove poteva essere più reattivo, più scattante diciamo che sia con la Spal sabato che stasera ha fatto delle discrete formazioni, delle prestazioni scusate e speriamo bene perché sappiamo che è stato un difensore pagato 28 milioni, davvero una cifra esagerata e quindi bisognerà vedere se è stato un investimento del tutto buttato o meno. Comunque ragazzi abbiamo giocato davvero molto bene dal primo minuto, davvero non si potevano sentire i telecronisti di Mediaset Premium che hanno detto fesserie su fesserie, ho perso il conto di quante ne hanno dette. Comunque si conferma ancora una volta la coppia Alan e Giorginio in grandissima forma. Giorginio davvero fa passaggi di precisione chirurgica, poi ha fatto anche qualche buon dribbling e Alan poi da sempre un grandissimo contributo in fase difensiva con i suoi contrasti ed anche in fase offensiva. Ora domenica c'è il Cagliari, partita importantissima di campionato, assolutamente da vincere per poi andare alla sosta con sette vittorie consecutive in campionato e con una Champions ancora tutta da giocare. Ragazzi davvero questa stagione è ancora lunghissima, ancora tutta da giocare e speriamo che andrà bene. Detto questo ragazzi io vi saluto, noi ci vediamo alla prossima e sempre forza Napoli.